fammi chiudere la tastiera ok a parto buonasera scusate stavo a telefono ho ricevuto una chiamata ok parto intanto ciao stella ok io imparo lo spiritismo momento di studio condotto da lei ogni giovedì alle ore.1 sulla piattaforma zoom e in facebook live sul gruppo lo specchio dell'arma vedremo assieme lo spiritismo, il libro dei Medina e moltissimi argomenti che ci aiuteranno nella comprensione dei meravigliosi insegnamenti dal mondo dello spirito attraverso Kardec, Chico Javier e molti altri resta connesso con noi e ricorda affinché tu possa comprendere sempre di più ok ecco qua benvenuta Leida è tutto tuo benvenuta ragazzi benvenuta voi lì dell'aspetto dell'anima oggi abbiamo Luca non ci sarà problema settimana scorsa mi sono trovato un po' un pochettino in difficoltà buonasera Antonio buonasera a tutti che siano qua e quello lì dell'aspetto dell'anima oggi è dove dovremmo fare è il libro dei dei Medio non la continuazione del nostro studio del libro dei Medio e come Luca ha suggerito per fare una cosa più dinamica abbiamo montato un power point e poi man mano che per 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 lo meno il capitolo che stavamo studiando la 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 i se la con i seguenti diciamo così il proseguimento di quello che stavamo studiando ok ok vado vai rosare se odora quale delle due riesce a legge ok vado io sì allora come fa la preghiera iniziale oh è vero scusami la preghiera è vero è vero è vero eh prendete le vostre bottiglie d'acqua ragazzi eh facciamo la preghiera iniziale grazie a Luca di aver ricordato perché nella confusione della della preparazione ci siamo scordati chiediamo a tutti i nostri amici spirituali agli spiriti benefattori di questa casa e di ogni casa che adesso si connetta con noi chiediamo inoltre che loro vengono a difenderci a proteggerci e a darci la illuminazione delle cose che stiamo studiando chiediamo agli spiriti benefattori di benedire magnetizzare fluidificare queste acque affinché ognuno possa ricevere in armonia con i suoi bisogni con quello di chi ha necessità che questa serata ci porta una comprensione migliore della nostra vita e della vita e del mondo che viviamo grazie 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 ok grazie partiamo vai vai apparizione dello spirito dei viventi cento quattordici questi due fenomeni sono varietà di quello delle manifestazioni visive e per quanto meravigliosi possano apparire a prima vista si riconoscerà facilmente attraverso la spiegazione che può essere data che essi provengono dall'ordine dei dei fenomeni naturali l'uno e l'altro poggiano sul principio secondo il quale tutto ciò che è stato detto sulle proprietà del perispirito dopo la morte si applica al perispirito dei viventi noi sappiamo che durante il sonno lo spirito riacquista in parte la sua libertà vale a dire che si isola dal corpo ed è durante questo stato che noi abbiamo avuto molte volte occasione di osservarlo ma lo spirito che l'uomo sia morto o vivo ha sempre il suo involucro semimateriale che per le stesse cause che abbiamo descritto può acquisire la visibilità e la tangibilità fatti molto positivi non possono lasciare alcun dubbio a questo riguardo noi citeremo solo alcuni esempi di cui siamo personalmente a conoscenza e di cui possiamo garantire l'esattezza essendo ciascuno in grado di raccoglierne di analoghi passando in rassegna i propri ricordi ecco questa parte qua se vedete c'è un numero 114 poi il paragrafo seguente che poi vedete è 119 113 14 15 16 17 18 racconta delle storie che loro hanno vissuto lì in Francia Kardec e i suoi ricercatori e i suoi amici che partecipavano di queste riunioni di questi studi ci stanno la storia di vari personaggi che si sono materializzati e di che si sono fatti visibili e tangibili lui la cosa importante da percepire in questo paragrafo è che non è una cosa anormale non è una cosa diciamo così straordinaria è un fenomeno naturale togliendo quella cosa lui dice anche se è lo spirito di un morto o di un vivo indipendentemente di quello che appare davanti a noi non è una cosa da temere da essere spaventata da essere preoccupati e tutto questo è possibile come abbiamo studiato nel capitolo sei e nel capitolo cinque che abbiamo mandato poi il testo io mi manderò il testo di questa sera anche anche questa sera che abbiamo studiato prima che a causa del perispirito ossia del corpo espirituale che uno chiama doppio eterico che uno chiama corpo astrale o perispirito a noi non ci interessano i nomi a noi ci interessa il concetto che stiamo esprimendo ossia il corpo che usiamo quando andiamo a dormire nostro corpo fisico rimane sul letto ma il nostro spirito va girovagando e questo girovagare lui utilizza un corpo della della materia di che è fatta il mondo espirituale perché il corpo fisico sta nel fisico e oggi comprenderemo un po di più questo fatto della della materia e voi forse capirete di più o riuscirete a avere più dubbi che mai ok continua sì io non ho uno e l'altro eccolo qua non c'era aspetta però che non vedo tutto ok uomini doppi sant'alfonso degli cuori e sant'antonio da padova 119 ritorniamo ora al nostro argomento lo spirito di una persona vivente isolato dal corpo può apparire come quello di una persona morta e avere tutte le apparenze della realtà per di più per le medesime cause che abbiamo spiegato esso può acquisire una momentanea tangibilità e questo fenomeno indicato con il nome di bicorporietà che ha dato luogo alle storie degli uomini doppi vale a dire di individui la cui presenza simultanea è stata constatata in due luoghi differenti ecco nei due esempi tratti non da leggende popolari ma dalla storia ecclesiastica sant'alfonso degli guori fu canonizzato prima del tempo determinato per essersi simultaneamente mostrato in due posti differenti cosa che passò per un miracolo sant'antonio da padova era in italia e al tempo in cui predicava suo padre che si trovava a lisbona veniva condotto al supplizio sotto l'accusa di omicidio in questo momento appare sant'antonio dimostra l'innocenza di suo padre e smaschera il vero criminale il quale più tardi subirà la sua pena fu provato che in quell'istante sant'antonio si trovava in italia dove predicava nella città di padova Sant'Alfonso, scusate, da noi evocato e interrogato riguardo al fatto di qui sopra ci ha dato le risposte loro hanno parlato proprio con lo spirito di Sant'Alfonso degli Gori e hanno domandato a lui su questo fatto e lui risponde Allora, primo, potreste voi darci la spiegazione di questo fenomeno? Sì, quando l'uomo grazie alle sue virtù si è completamente smaterializzato quando ha elevato la sua anima verso Dio può apparire contemporaneamente in due luoghi ed ecco come lo spirito incarnato sentendosi prendere dal sonno può chiedere a Dio di trasportarsi in un qualsiasi altro luogo il suo spirito o, come preferite chiamarlo, la sua anima abbandona allora il corpo seguito da una parte del suo perispirito e lascia la materia immonda in uno stato vicino alla morte io dico vicino alla morte perché è rimasto nel corpo un legame che unisce perispirito e anima alla materia e questo legame non può essere definito il corpo appare dunque nel luogo richiesto io credo che ciò sia tutto quanto voi desideriate sapere ecco, lui continua ancora con le domande ma lui sta spiegando che è questo fatto della bicorporità ma come era un prelato lui parla con quel linguaggio se notate bene lui risponde in mondo che sono parole che si usava all'epoca poi vicino a Dio capito? ci sono alcuni termini che lo usava non ci prendiamo ai termini per piacere vediamo il concetto continua visibilità e tangibilità due ma questo non ci dà la spiegazione della visibilità e della tangibilità del perispirito lo spirito trovandosi liberato dalla materia secondo il suo grado di elevazione può rendersi tangibile alla materia è indispensabile il sonno del corpo perché lo spirito appaia in altri luoghi l'anima può dividersi allo che si sente portata in un luogo diverso da quello dove si trova il corpo può accadere che il corpo non dorma benché ciò sia molto raro ma allora il corpo non è mai in uno stato perfettamente normale esso è sempre in uno stato più o meno estatico ecco in questo senso nel caso di l'altro Sant'Antonio mi sembra Sant'Antonio di Padova lui nel caso suo lui stava facendo una messa a Padova in Italia invece lui appare a Lisbona in Portogallo vuoi dire in luogo abbastanza lontano e diverso e era diciamo così hiperattivo non era in trance non era sonambulico era in attività vuoi dire vuoi dire che lui aveva aveva molto forte la sua capacità mediana che è sviluppata e utilizzando per esempio se lui stava facendo una messa no? il suo padre era doveva essere giustiziato il suo cuore era disperato e la sua una messa credo a quell'epoca era sempre gremida di gente lui approfittando l'energia l'ectoplasma di tutte le persone che stavano lì nella messa ha potuto esercitare questo fenomeno lui dal vivo diciamo così senza dormire sveglio dai sveglio voglio dire ok? continua osservazione 4 che cosa accadrebbe se un uomo immerso nel sonno mentre il suo spirito appare altrove fosse svegliato improvvisamente questo non può succedere infatti se qualcuno avesse l'intenzione di svegliarlo lo spirito rientrerebbe nel corpo prevenendo l'intenzione dato che lo spirito legge nel pensiero ecco non c'è pericolo diciamo così vai una spiegazione completamente identica ci è stata data molto spesso dallo spirito di persone morti o viventi Sant'Alfonso spiega il fatto della doppia presenza ma non ci dà la teoria della visibilità e della tangibilità allora nel libro del libro dei medi parla pure di Vespasiano se andate a leggere nel capitolo 7 paragrafo 120 parla della storia l'antica Roma del fatto di una bicorporeità pure all'epoca dei romani andate a leggere perché se no perdiamo tempo con delle informazioni che è solo solo informazione perciò l'ho torto che così andate a verificare nel libro dei medi ok 121 ecco io se vuoi Dola che questo è piccolino il testo bravo pensavo mi stessi mettendo la prova allora vai ok in due luoghi diversi 121 l'individuo che si mostra simultaneamente in due luoghi diversi ha dunque due corpi ma di questi due corpi uno solo è reale l'altro non è che apparenza si può dire che il primo ha la vita organica e che il secondo ha la vita dell'anima al risveglio i due corpi si riuniscono e la vita dell'anima rientra nel corpo materiale non sembra possibile almeno noi non abbiamo alcun esempio e la ragione sembra dimostrarlo che nello stato di separazione i due corpi si possono simultaneamente e nel medesimo grado godere della vita attiva e intelligente risulta inoltre da quanto abbiamo appena detto che il corpo reale non potrebbe morire mentre il corpo apparente resta visibile poiché l'avvicinarsi della morte richiama lo spirito nel corpo forse anche per un solo istante ugualmente ne risulta che il corpo apparente non potrebbe essere ucciso non essendo né organico né formato da carne e ossa esso sparirebbe nel momento in cui gli si dovesse dare la morte ecco poi potete andare a vedere anche lì nella rivista spiritica che spiega un sacco di casi di questo fatto qua è interessante verificare perché uno dice ma quando fa la bicorporità si succede che qualcuno venne a uccidere non perché lo spirito è cosciente poi quando vedremo più avanti il fatto del tempo e dello spazio cosa significa e cosa interessa alla medianità tutto ciò ok transfigurazione proviamo ora a spiegare questo fatto che una volta si sarebbe chiamato miracolo e che noi chiamiamo molto semplicemente fenomeno è ammesso in linea di massima che lo spirito può dare al suo perispirito tutte le apparenze che per una modificazione nella disposizione molecolare può dargli la visibilità la tangibilità e di conseguenza la opacità che il perispirito di una persona vivente isolata dal corpo può subire le medesime trasformazioni che questo cambiamento di stato avviene attraverso la combinazione dei fluidi figuriamoci ora il perispirito di una persona vivente non isolato ma irradiante si intona il corpo in maniera da avvolgendo come un vapore in questo stato esso può subire le medesime modificazioni che subirebbe se fosse separato se perde la sua trasparenza il corpo può scomparire divenire invisibile ed esso velato come se fosse immerso nella nebbia il perispirito potrà anche cambiare aspetto diventare brillante se tale è la sua volontà o il potere dello spirito un altro spirito combinando il suo proprio fluido con il primo può sostituirvi la sua propria apparenza in questo modo il corpo reale sparisce sotto un involucro fluidico esteriore la cui apparenza può variare secondo la volontà dello spirito tale sembra essere la vera causa del fenomeno strano e raro occorre dire della trasfigurazione ci ricordiamo della trasfigurazione di Gesù su Montetalbor che lui è diventato luminosissimo e è apparso e Mosè e qual era l'altro era Mosè e quello che doveva essere Giovanni Battista è Saulo no no è difficile tu sei la prevesperta in questo no che mi ha sfuggito completamente Elia Elia bravo grazie Elia Elia che era Elia no che Elia e Mosè su Montetalbor lì la trasfigurazione che era un fenomeno normale è lui è raro da venire solo quando c'è un motivo preciso e è la combinazione come dice qua di fluidi no e e può assumire qualsiasi forma quando nella Bibbia si legge è un fuoco divino è che un fuoco divino diciamo quando parla del fuoco che parla no vuoi dire medianità perché che cosa è un fuoco divino che parla no è lo spirito che sta parlando attraverso attraverso questa forma di fuoco questa palla di fuoco quella sassardente che parla che Dio parlava con le persone è la medianità diciamo così che loro si possono verificare possono in forma animale in forma di qualsiasi persona e nella forma loro stessa quando erano in vita e i viventi pure si possono usare questo metodo quelli capaci veramente quelli capaci lo utilizzeranno in maniera per potere come diciamo Dio non manda niente non lascia fare niente che sia inutile deve avere un'utilità per la creatura umana invisibilità ok nel caso in cui esso avesse luogo per il fatto che non se ne potrebbe dare una soluzione soddisfacente questo non invaliderebbe la cosa non bisogna poi dimenticare che siamo agli inizi della scienza e che sia ben lungi dall'aver detta la sua ultima parola su questo punto come su molti altri d'altronde le parti eccedenti del corpo potrebbero perfettamente essere rese invisibili la teoria del fenomeno dell'invisibilità risulta del tutto naturale dalle spiegazioni precedenti e da quelle che sono state date riguardo all'argomento sul fenomeno dei trasporti di vedere domanda numero 96 e successive seguenti è la stessa è lo stesso metodo è la stessa procedura attraverso il fluido il fluido cosmico il perispirito il fluido vitale è tutto entra in gioco l'etoplasma delle persone presenti tutto c'è un motivo e una ragione di essere e si può spiegare benissimo è chiaro che è rarissimo caso di invisibilità no? ma non è che la persona scompare no? è completamente lì ci sta tutta una una forma di una medianità potentissima in cui spazio materia e tempo entrano in gioco e questo lo vedremo più tardi ok laboratorio del mondo invisibile per poter continuare lo studio abbiamo alcune nozioni che si trovano nel libro nei regni della medianità ecco qua eh allora un capitolo seguente a questo a questo del libro dei medium si chiama laboratorio del mondo invisibile e come molte domande eh che ci sono sono eh fatte in maniera che abbiamo visto tutte le tutte le spiegazioni c'è a che a vedere con tempo con lo spazio con la materia e con lo spirito e per poter capire un po' di più in questo libro nei domini della medianità o nel regno della medianità di Chico Xavier e Andrea Luis è la continuazione del nostro là perché eh lui è psicografato con Andrea Luis eh sedici libri che sono questo questi libri questo tanto i nei domini della medianità e i meccanismi della medianità eh sono libri che eh sono studiati nelle nelle università brasiliane dove c'è studia medicina e spiritualità perché ma vedrete io ho messo eh l'indice di questo libro ma ma condivido io ah l'ha messo l'ha messo l'ho messo tutto figliola tu sei speciale questo ha fatto tutto Luca ragazzi eh eh voi leggete poi dopo con calma eh tutto qua no ma quello che studieremo quella l'idea nostra di di Luca e mia è più una idea di Luca perché veramente eh io avrei seguito eh con nostro studio così ma eh è pesante lo so che è pesante è difficile alle volte e lui ribatte eh più di una volta gli stessi concetti e nei libri di di Chico Xavier principalmente quello di Andrea Luiz dove lui era un medico e Andrea Luiz come medico era curioso era un scienziato noi sappiamo oggi che sono passati più di un secolo della morte fisica del dottore che faceva che nella nella storia di nella psicografia si faceva chiamare Andrea Luiz noi sappiamo chi è no era un ricercatore era un medico ricercatore brasiliano e per come all'epoca di Cicco 1936 la famiglia di questo medico era ancora viva lui non poteva fare tu ha cambiato nomi ha cambiato alcune alcune storie per poter non disturbare la famiglia che era ancora in vita passato più di un secolo adesso sono i pronipoti di Andrea Luiz di questo medico e lui ha dato delle informazioni che negli anni si sono verificate che la scienza ha confermato e ancora oggi ci sanno tante delle cose che la scienza ancora non ha potuto confermare perché ancora non è scoperto dei materiali degli strumenti e delle cose che ancora non sono arrivati al mondo fisico ma lui ha già anticipato a noi quello che arriverà su questo nostro pianeta no e nella 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 prefazione dell'indice dice raggi onde medium menti questo nostro la prefazione di questo libro voi ci stai studiando lo psicoscopio che cos'è è un apparecchio creato nel mondo spirituale e che dopo quando leggeremo il capitolo del psicoscopio vedremo perché cosa serve l'equipaggio medianico ossia noi siamo siamo una macchina medianica prima del servizio prima di fare il servizio mediano cosa si fa cosa accade assimilazione delle correnti mentali psicofonia coscienti soccorso spirituale psicofonia sonambolica ossessione sonambulismo tormentato sdoppiamento in servizio chiaro vigenza e chiaro pensiero e medianità servizio spirituale forse viziate mandato medianico servizio di passi notte a margine dominazione telepatica medianità e preghiera questo è bellissimo medianità nel letto di morte che abbiamo già parlato tante volte che i malati alle volte si accorgono affioramento del passato fascinazione è un fenomeno che accade spesso con noi e principalmente con gli spiritisti la fascinazione lotta espiatoria intorno alla fisiazione mentale psicometria medianità deviata effetti fisici annotazione di servizi ultime pagine allora questi sono gli argomenti che noi tratteremo ogni quindici giorni per il libro dei medi perché non possiamo andare avanti senza aver capito alcuni concetti e voi capirete perché oggi quando dovrò leggere io perché dovrò interrompere me stessa in ogni momento per spiegare bene bene questo è la prefazione di questo libro si chiama Raci condividi tu si si condivido io condivisione schermo ecco qua è andata? non ancora no si vede niente adesso è arrivata ok ok allora fammi togliere la roba da mezzo ok Raci onda médium mente tre puntini la scienza del secolo ai ok ok so un attimo no perché io ho fatto state vedendo con i sei sì con quelli rossi sì ok vabbè vedete questo con i rossi vabbè la scienza del secolo del ventesimo secolo studiando la costituzione della materia cammina di sorpresa in sorpresa rinnovando aspetti della sua concettualizzazione milenaria puoi dire la scienza stava facendo passi avanti nonostante la teoria di Leucipo mentore di Democrito il quale quasi cinque secoli prima di Cristo considerava tutte le cose formate da particella infinitesimale ossia ha dato il nome di atomo no in costante movimento vuoi dire lui prima cinque secoli prima di Cristo aveva già concepito questo fatto senza un un microscopio elettronico per poter capire per poter vedere la materia non esisteva neanche le lenti di ingrandimento per poter capire e lui ha intuito l'atomo in costante movimento la cultura classica proseguì detenendo detenendosi ai quattro principi di Aristotele l'acqua la terra l'aria il fuoco o nei tre elementi ipostatici che sarebbe ipostatici vuol dire di riguardo a una ipotesi una una diciamo così una evidenza che noi possiamo provare degli antichi alchimisti lo zolfo il sale e il mercurio per spiegare le combinazioni multiple nel campo della forma vuol dire loro cercavano di capire il mondo che stava attorno a loro e hanno dato i nomi a questi elementi hanno cominciato un studio che loro chiamavano alchimia che oggi sono i chimici dei laboratori nel secolo XIX Dalton concepisce scientificamente la teoria corpuscolare della materia e inizia un meraviglioso periodo di ricerca attraverso l'intelligenza rispettabilissima in cui si rinnovano idee e concezioni intorno alla cosiddetta particella indivisibile l'atomo che all'inizio del XIX secolo si pensava che l'atomo era indivisibile ma poi oggi siamo arrivati siamo arrivati a tante divisioni dell'atomo tante percustando percustando piano ancora 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 scavando a fondo si vede che c'è molto più c'è ancora oltre l'atomo e straordinarie scoperte svelano nuovi grandiosi orizzonti alla conoscenza umana Crux scopre nello stadio radiante della materia e studia i raggi cattolici che è Crux Crux era spiritista se andate a leggere la biografia di Crux lui era un spiritista era dell'epoca di Kardec e di Leon Denis e di Conan Doyle lui ha dato inizio ai tubi cattolici che stia la televisione che prima era quel tubo cattolico e alla televisione poi roti roti che non so come si chiama osserva le radiazioni visibili attraverso tubo di Crox avvolto da una scatola di cartone nero e ne deduce l'esistenza dei dei rai x perché si chiamano rai x perché lui dice non so che cosa sia mettiamo l'x da questione quando facciamo un'equazione quando c'è un'equazione matematica lui diciamo l'x della questione infatti è lì perciò si chiamerà x e come ha scoperto questo che lui sottomettendo questi raggi che venivano da questo tubo cattolico prima i raggi venivano compressi in questo tubo ricordate le televisioni antiche che era quella cosa quella palla tonda che tenia una specie di tubo alla fine lui non ha volto ha lasciato quei raggi cattolici passare passare attraverso il tubo non l'ha bloccato e ha messo la mano davanti quando è andato a vedere che qual era il risultato nella scatola nera ha scoperto ha visto le osse delle sue mani così lui wow attraverso questi raggi si possono vedere le osse ma lui non era medico lui non era un dottore non era un ortopedico era semplicemente un scienziato un ricercatore e lì si è scoperto cosa poteva servire i raix in fatto della medicina e anche che la radiazione poteva far male ma questo non si sapeva all'epoca e il rieb seduto dall'argomento ancora nella stessa epoca sperimenta l'uranio alla ricerca di radiazione dello stesso contenuto e trova ragione per le nuove indagini vuol dire l'uranio che poi ha causato morte dappertutto perché si si toccava si passava da una mano all'altra i ricercatori poverini sono stati i primi a farne la pena di questo fatto ma hanno scoperto la radiazione che si è scoperto che la materia che si irradia naturalmente e finisce sparisce la materia si consuma e quello che rimane dalla materia sono le radiazioni e pensando a questo attraverso queste scienziate abbiamo scoperto che i materialisti poverini chi è materialista chi è materialista mi dispiace ma la materia non esiste più non sanno più che cosa sia la materia perché la materia può scomparire poi che succede che la coppia Currie no madame Currie il marito no incuriosita dall'enigma analisa tonnellata di di uranio di pec plebem vabbè non interessa i nomi e ottene il radio che poi anche questo causa causa malattia e fa male ma attraverso i radio scopri tante possibilità di utilizzo per l'uomo compreso le onde radio le vecchie affermazioni scientifiche tremono alle basi perché non si capisce più che cosa è materia che cosa non è se la materia se la materia si radia no ma irradiare è energia ma la materia è solida ma è solida o è energia se si radia se si se si spande se si consuma che cos'è no le vecchie affermazioni scientifiche tremono alle basi ruta è forte davanti a una grande schiera di pionera inizia preziosi studi intorno alla radioattività al campo elettromagnetico perché che cos'è la forza elettromagnetica no l'atomo soffre un'irresistibile perseguizione della forte nella fortezza in cui si accoglie e confida all'uomo la soluzione di molti segreti ci sta quello che dall'epoca di Einstein uno dei compagni di Einstein che nella sua biografia lui dice che la cosa che più le ha deluso in tutta la sua vita che è torto proprio la terra no è un fatto Born Born mi sembra si Born lui è un fatto dopo di scoprire questo fatto del campo elettromagnetico e del comportamento dell'atomo e fin dall'ultimo quarto del secolo passato dell'attività che poi è tutto un che dire dice ma che c'entra questo con il libro dei medio con il medio e con la medianità aspita c'entra tutto vedete allora elettronico retto dalla coscienza che siamo noi se potessimo condensare l'essere umano no togliere lo spazio perché noi sappiamo che un atomo no se noi prendiamo che di cosa è formato un atomo ci sta il nucleo e poi ci sta l'elettrodo no noi sappiamo che qual è la distanza che c'è dal nucleo all'elettrone non so se dice l'elettrone comunque qual è la distanza che c'è è la stessa distanza che c'è una biglia da quella che si gioca nei bambini messa la strada messa in un campo di calcio come per esempio qua in un campo di calcio dal centro del campo di calcio all'ultima all'ultimo posto a sedere nella nella panchina dello stadio vuoi dire è un spazio imenso dentro nostro corpo se dovessimo guardare attraverso un raio X un psicoscópio noi noi vedremo tanto spazio nella nostra materia ci sta una dottoressa che che ho già parlato con voi tanto tempo fa Gil Boltes Gil con la 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 Gil Boltes che lei è una neurochirurga estudio cervello e lei perché il fratello soffriva di schizofrenia ha cercato di studiare la mente per sapere che cosa c'era dentro per poter guarire il fratello è stata una grande ricercatrice e lei un giorno quando ha avuto una non so si chiama una embolia una cosa che quando esplode sangue nel cervello che era della misura di una palla da 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 un'embolia cerebrale è un'embolia cerebrale è quella che si gioca a golf non da la misura di una pallina da golf lei ha detto che in quel momento lei era cosciente lei invece di essere spaventada quando ha avuto l'embolia lei ha detto wow io io come medico del cervello sto vendo un problema in cui io da dentro posso vedere posso analisare da dentro e lei ha detto che lei vedeva le cose senza senza limite vedeva tutto come se fosse onda e energia non vedeva confine lei guardava la sua mano e non vedeva la mano vedeva dell'energia delle cose senza confine e è stato nella sua esperienza su su che segue ci sta su TED ti è di che è una espèce una piattaforma di conferenza dove lei spiega se mettete Jill Boltis su 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 facebook su facebook su youtube su google la trovate e c'è pure in italiano con sottotitoli è incredibile emozionante io mi sono messa a piangere quando l'ho visto sua la sua la sua la sua diciamo così racconto non non so racconto grazie è e in questo caso qua il nostro corpo carnale non è altro che un turbine elettronico se vediamo se potessimo condensare veramente gli atomi del nostro corpo sarebbe piccolino come una biglia tutto il nostro corpo io che sono occhiata così potrei entrare dentro una biglia di atomi del mio corpo perché resta spazio spazio vuoto no ogni corpo tangibile tangibile è un fascio di energia concentrata ecco qua la materia è trasformata in energia e questa la materia scompare e questa energia scompare per dar logo alla materia ossia materia e energia la equazione di Einstein no materia uguale energia se la materia è uguale energia che cosa è energia si può prendere per mano è tangibile no ma la materia sì che noi possiamo toccare le cose tocchiamo no ma se guardiamo bene è energia radiante perciò i fenomeni di bicorporietà i fenomeni di fisici sono possibili perché perché è la è la manipolazione di questa energia concentrada nel nostro corpo chimica e questa è bellissima questa parte chimici e fisici matematici e geometri eretti alla condizione di investigatori della verità oggi sono oggi senza che lo desiderassero loro non è che vogliono essere sacerdoti dello spirito chimici fisici matematici questi scienziati sono sacerdoti dello spirito perché in realtà loro stanno studiando questo elemento espiritual senza sapere e senza volere perché come conseguenza dei loro perseveranti studi immaterialismo e l'ateismo saranno costretti a scomparire per mancanza di materia perché se materia è energia la materia non sta per mancanza la base che assicura loro speculazioni negativista negativista pensieri negativi che è la base delle loro speculazioni i laboratori sono templi in cui l'intelligenza è ispirata al servizio di Dio quando ho letto questa prefazione ogni volta che entro in un laboratorio che parlo con professori di fisica chimica biologia che sia io vedo in loro questi questi sacerdoti di questi templi perché stanno a servizio di Dio con lo loro lavoro senza sapere non lo sanno neanche alcuni sì che sono coscienti di quello che stanno facendo altri no perfino quando la celebrazione ossia il cervello della mente si perverte transitoriamente corrotti dall'egemonia politica generatrice di guerra il processo della scienza come conquista divina permane nell'esaltazione del bene in direzione a un glorioso avvenire ossia anche quando diciamo ma la scienza a servizio della guerra della politica del denaro del cosa anche così sta dicendo emmanuel in 1954 mi sembra dice permane nell'esaltazione del bene in direzione a un glorioso divino servano è un progresso della scienza come conquista divina il futuro appartiene allo spirito e meditando sull'argomento della collettività terrestre andrea andrea luiz organizzò queste leggere pagina circa la medianità comprendendo l'importanza ogni volta maggiore dell'interscambio spirituale tra le creature allora vedi questo questa è una prefazione di emmanuel un altro spirito che sta parlando di andrea luiz un spirito no tutti i libri di chico xavier sono stati prefazzati prefazzati da emmanuel perché che era il suo mentore spirituale no solo questo capitolo solo questo capitolo solo questa prefazione già ne dà un congresso una 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 conferenza solo per questo capitolo qua sto parlando molto velocemente per non annoiarvi per non farvi confondere tanto ma comunque è così e meditando sul domani della collettività terrestre andrea luiz organizzo queste leggere pagine leggere non direi tanto circa la medianità comprendendo le importanze ogni volta maggiore dell'interscambio spirituale tra le creature quanto più avanza nell'accensione evolutiva più sicuramente percepisce l'uomo la inesistenza della morte come cessazione della vita che è la sicurezza del mondo spirituale e ora più che mai si riconosce nella posizione di una coscienza trattenuta tra forze e fluidi provvisoriamente agglutinati riuniti per fini educativi noi siamo qua provvisoriamente uniti agglutinati uniti per fini educativi per crescere per evolvere comprendi a poco a poco che il tumulo è la porta verso la rinnovazione e la cula è l'accesso all'esperienza ossia quello che abbiamo detto l'altra volta che quando uno morre va alla rinnovazione va a tornare a casa dove tanti amici ci aspettano e ci ricevono a braccia aperta e con un sorriso è tornato e la cula anche qua quando nasciamo siamo ben accolto dai nostri genitori dai nostri dai amici dei nostri genitori che è la porta all'accesso all'esperienza carnale e osserva che il nostro tirocinio nel pianeta è un viaggio con destinazione le stazioni del progresso maggiore noi andiamo verso l'evoluzione e nel grande romitaggio nel grande camminare tutti siamo instrumento delle forze con le quali siamo in sintonia ecco questa qua dobbiamo tenerla bene in mente siamo instrumenti delle forze con le quali siamo in sintonia se io mi sintonizo ma la mente io sto con le forze ma la mente noi in realtà durante il nostro camminare il nostro continuare tutti noi che ci sintonizziamo con il bene perché siamo tutti collegati quello che poi lo vedremo è un collegamento che esiste tra tutte le creature e tutto non solo creatura ma tutti tutto il creato tutto quello che è stato creato tutti siamo medio dentro il campo mentale di che c'è proprio ognuno c'è la sua propria medianità che io di un modo che di un altro associandoci all'energia edificante se il nostro pensiero fluisce nella direzione della vita superiore o associandoci alle forze perturbatrici e deprimenti se ancora ci schiavisiamo alle ombre della vita primitivista o torturata se siamo depressi negativi sempre male va tutto male solo a me madonna mi che succede a me tutto contro di me e il mondo è contro me noi ci stiamo associando a queste forze ogni creatura con i sentimenti che le caratterizzano la vita intima emette raggi ecco ognuno con i nostri sentimenti della nostra vita personale di ognuno emettono raggi specifici e vive nell'onda spirituale con cui si identifica io emano dei raggi positivi e vivo in queste onde spirituale che mi identifico simile verità non permanano semi-occulta nei nostri santuari di fede se iradieremo dai tempi della esperanza come equazione matemática se iradieremo dai tempi della scienza come equazione matematica quando noi usiamo queste questa conoscenza noi la faremo irradiare la cosa interessante che Einstein Born e tutti questi scienziati hanno trovato è che loro hanno fatto una quando Einstein ha detto che Dio non gioca dati con l'universo perché lui era sconvolto quando si è andato a vedere la biografia di Newsborg lui era sconvolto perché loro hanno fatto un esperimento perché ha detto proviamo proviamo per vedere come funziona perché loro hanno percepito che una particella no ela si comporta ora come onda ora come particella come corpuscolo un atomo no un elettro un foton ha detto come è questa cosa loro hanno fatto un esperimento che poi faremo poi una lezione solo su questo che è molto bello loro hanno preso questo questo foton che foto che cosa è foto è luce non foto fotone fotografia foto è un fotone fotone è luce e hanno preso questa particella e hanno buttato su una placca piena di buchi che succede è come se tu fai una placca di metallo e bucare la questa placca di metallo con tanti con tanti buchi della misura della biglia questa biglia che stiamo parlando di biglia della biglia e butta un sacco di biglia in questa e fa sbattere queste biglia su questa placca che cosa dovrebbe succedere che tutte le biglia sbattono nella placca alcune dovrebbero quando arrivano al buco o trapassano quel buco no quello che non riescono a che non vanno nel buco dovrebbero rimbalzare e tornare indietro questo sarebbe normale se io butto una pallina nella parede dove c'è un buco se riesco a zeccare un buco la pallina va avanti se non riesco la pallina mi torna indietro così dovrebbe essere non è successo questo la pallina si è comportata come un'onda di energia semplicemente tutte tutte le palline hanno attraversato la placca bucarellata non può non può essere non poteva cadere alcune dovevano tornare come mai che tutte sono passate perché l'atomo si è comportato quella particella si è comportato come onda e non come particella fisica come materia fisica e se facciamo buttare una contro l'altra allì si scontravano e non si comportavano come onda si comportavano come particella allora hanno detto scusami ma è onda o è particella è tutte due insieme dipendendo dell'osservatore da chi guarda l'esperimento influisce influisce il nostro pensiero tutto c'è che vedere tutto è collegato se andate a vedere questa esperienza è stato fatto è bellissimo e se andate a vedere la biografia di di quest'altro scienziato che ho detto adesso non mi sono scordata un'altra volta è Niels Borg Niels Borg vedete la sua il suo morto quando che lui ha detto io non so più che è materia e è energia non c'è più la materia signore materialista materia è morta e è risuscitata come onda è rinatta è reincarnata come onda e poi lui continua e Manuel continua e mentre vari apprendisti si focalizzano sulla medianità studiandola dalla terra al cielo che è quello che stiamo facendo noi dalla terra verso il cielo il nostro amico Andrea Luiz che analisa la posizione e i valori dal cielo alla terra perché lui dal mondo spirituale può analizzare molto meglio dalla sua posizione verso la terra collaborando alla costruzione dei nuovi tempi tuttavia ciò che evidenziamo come più alto nelle sue pagina è la necessità del Cristo nel cuore e nella coscienza perché non siamo disorientati al tocco dei fenomeni perché non diventiamo spaventati che non ci stupisca le cose perché le cose belle ci devono stupire le cose dello spirito non devono spaventarci perciò c'è necessità del Cristo nel cuore e nella coscienza senza nozioni di responsabilità se non prendiamo la nostra responsabilità dei nostri pensieri perché tutto qua sta parlando dei pensieri anche che vediamo che nel libro Meccanismo della Medianità lui dice che il pensiero è materia e spiega con tutte le teorie fisiche della fisica moderna che tutto è materia che il nostro pensiero è materia senza nozioni di responsabilità senza devozioni alla pratica del bene senza amore allo studio quello che stiamo facendo qua senza sforzo perseverante del nostro stesso perfezionamento morale è impraticabile la peregrinazione liberatrice verso le scime della vita e questo è importantissimo perché facciamo parte di una comunità adesso siamo solidali nelle nostre incarnazioni c'è un esperimento non so se avete lito Fritzsch Capra credo se conoscete sicuramente conoscete c'è un suo libro che si chiama La rete della vita dove lui spiega la teoria di Gaia andate a vedere poi la teoria di Gaia che è ultra è fortissima è fortissima dopo vi leggo un pezzettino se non vi annoiate Andrea Luiz è sufficientemente chiaro perché noi non ci dilunghiamo in qualsiasi considerazione ogni medio con la sua mente ogni mente con i suoi raggi con le sue energie personalizzando osservazioni e interpretazioni e conforme ai raggi che lanciamo ci servirà i domicili spirituali nell'onda di pensieri a cui nostri animi si affezionano se il mio pensiero si affeziona all'energia positiva questa onda continua se no ci blocchiamo nei pensieri oscuri negativo questo in buona sintesi equivale a ripetere ancora con Gesù a ciascuno secondo le sue opere Emmanuel Pedro Leopoldo 1954 non interrompo la condivisione perché io voglio lasciare qua la teoria di Gaia che vi spiego pure di forma abbastanza qua dopo vi mando pure questo vi mando ma vi spiego che cosa è questa teoria di Gaia allora ok che cosa è la teoria di Gaia che alcuni scienziati negli anni 60 70 hanno ipotizzato questa teoria che oggi è parlata si dice fa e tutto il resto no che non ipotizzato hanno studiato hanno verificato che la medride carbonica che è prevalentemente c'è tanta nel nostro pianeta che è creata dai volcani dagli alberi che non solo la fotosintesi ma a sera loro cacciano anidride carbonica no da tanti autori dalle macchine da tutto da tutto che è vivente produce anidride noi produciamo anidride carbonica con il nostro respiro perciò le mascherine non ci fanno tanto bene ma comunque produciamo l'anidride carbonica che succede che l'anidride di carbonica eccedente no dove va a finire comunque se no pianeta si surriscalda e andiamo alla surriscaldamento globale quindi si è scoperto che i vulcani per esempio che cacciano le lava che esplodono no quando abbiamo detto della della legge di distruzione i vulcani che la necessità della legge di distruzione i vulcani quando esplodono cacciano nell'aria tanta anidride carbonica che si vanno a depositare nelle rocce e nel terreno sottostante questa roccia erosa attraverso l'erosione erosa dall'acqua della pioggia i temporali i tsunami i venti gli uragani erosa dall'intemperie no finiscono nel mare no e lì nel mare vanno ad alimentare una specie di alga che questa alga ha la capacità di creare un gucci un guccio una 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 conchiglia che è fatta di come si dice calcio no calci come si chiama va bene è fatta di calcio no calcare di calcare è calcare questa 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 conchiglia che è invisibile che è invisibile agli occhi nostri non vediamo questa conchiglia che poi nell'acqua del mare nella sabbia della spiaggia nel fondo oceanico è pieno di questo calcare è pieno di questo calcio che poi con una quantità esagerata di erosione di piede di cose che arrivano a mare di queste conchiglie che poi si deteriorano e formano i calcare nel fondo del mare pesano queste queste questo calcare pesa così tanto che si sprofonda nelle nelle nei fondali oceanico addirittura nelle placche tectonica quella che provocano i terremoti la legge di distruzione i terremoti quella conchiglia invisibile ai nostri occhi e fanno sì con chi i vulcani esplodono un'altra volta e è un ciclo che va in giro quando noi diciamo che quella persona o quell'altra non c'entra niente con noi siamo cretini perché una conquiglia invisibile ai nostri occhi che non vediamo è responsabile del mantenimento d'equilibrio dell'ossigeno e dell'anidride carbonica nel nostro pianeta di cui respiriamo e di cui viviamo quando polluiamo quando inquiniamo le acque quando facciamo qualcosa siamo tutti collegati l'atmosfera l'aria dal vulcano alla confine che poi torna vulcano un'altra volta che lei si sprofonda fa esplodere i vulcani sottomarini vulcani vesuvio etna chissà chi quali vulcani che sono attivi sulla terra o vesuvio ancora ma fa parte del ciclo poi vi mando pure questo della gaia perché è molto carino e molto interessante da leggere e da conoscere no anzi leggete questo libro che è molto bello anche questo che si chiama la 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 della vita no non dice la la della 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 vita o la della della vita è è fortissimo questo quando leggiamo abbiamo letto il libro dei medium e abbiamo parlato di fisica di chimica e biologia ma con la con la invisibile ai nostri occhi no di un plankton che che non conosciamo non riusciamo a vedere e siamo collegati perciò l'importanza di questo studio ciao sebastiano perciò l'importanza di studiare perciò l'importanza di sapere perché la conoscenza di queste cose ci dà un'altra io mi sento gasata io mi sento onorata di appartenere a questa umanità di conoscere queste cose di sapere come funzionano certe cose e diciamo la chimica la fisica è falosa questo e l'altro io non capisco chi è fisico chi è chimico o qualche altro mi scusi i termini o le parole che ho usato che non c'entrano che credo che ho fatto un miscuglio generale perché non sono pratica di queste cose ma lasciamo perdere i termini lasciamo perdere i nomi concentriamo su quello che significa sul punto principale di quello che significa e questo è quello che volevo dire oggi a voi ok se avete delle domande non esagerate abbiamo fatto le dici un quarto non penso che hai fatto un espluardo stasera di lezione quindi è stato tosta sicuramente da comprendere tutto bisogna e poi Emanue a tradurre penso che sia un lavoro da titani penso sì sì ma io amo questa prefazione qua perché vabbè la fisica la chimica mi piacciono molto credo che un altro video sia stata o una chimica o una fisica non lo so perché mi piacciono questi argomenti ma dopo che vi do il testo vi mando il testo dopo per leggere più con tranquillità potrete fare le domande dopo non è un problema ma ci volevo per la continuazione di questo studio ci voleva questo tipo di ragionamento perché se è tutto collegato non c'è una cosa separata nell'universo i mondi i pianeti è tutto tutto in qualsiasi zona dell'universo siamo è tutto collegato e poi addirittura il buco nero capito il buco nero la gravità è così grande che assorbe tutto anche la luce ma lui che cosa fa sputta fuori l'antimateria vuol dire la materia colassa nel buco nero vuol dire la materia che morre nel buco nero poi rincarna nell'antimateria più spirituale di così no c'è tutto nella natura ci dice di questo mondo spirituale è incredibile è meraviglioso sto zitta non parlo più mi gaso e mi vado avanti mi dovete fermare perché se no mi esagero ok parlate qualche cosa se no da lì dal specchio dell'anima c'è qualcosa che hanno fatto tutti hanno scritto per esempio che le biglie sono sempre connesse anche fra loro anche le biglie quindi hanno confermato quello che tu hai detto la domanda che io è un po' prima però di quello che abbiamo letto io tutte le persone che ho conosciuto in questi anni di convegni medium sensitivi e che più ne ha più ne metta da più bravo al meno bravo ho notato una specie di non non chiamiamolo alone però sono molto più luminose rispetto alle altre persone anche nell'aspetto fisico cambiano può essere determinato questo dal loro comportamento spirituale dalla loro comunicazione quindi per il spirito che hanno può mutare parlando di trasfigurazione perché hanno quasi tutti la stessa faccia spiritata quasi l'aspetto luminoso capelli bianchi la pelle più chiara del solito sono persone luminose in tutti i sensi vabbè io conosco quello Raúl che è nero che è un medium bravissimo bellissimo potentissimo è nero lui ma lui veramente c'è nel suo sguardo un sorriso un'allegria incredibile anche quando ci tira l'orecchio ci dice ci tira l'orecchio sorridendo sì non lo so non ti so dire anche tu fai parte di questa di questa branchia comunque perché sei luminosa nel senso se guardo per esempio anche Dora che studia vedendo le immagini o tutte le persone anche conoscendo Gina anche Gina anche tu che hai avuto la modalità di conoscere hanno tutto questo alone un po' strano di luminosità e non lo so ci amiamo a vicenda sono osservatore quindi le noto queste cose però non è un complimento fisico è qualcosa di strano penso che anche Savelio lo posso confermare questo che ti conosci di persona penso che anche lui possa confermarlo questo guarda voi siete meravigliosi credo che l'amore che ci unisce no? io d'accordo con te Luca grazie ma l'amore che ci unisce io addirittura ogni tanto che cammino per la strada vedo Dora ogni tanto ti 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 ma sembra Dora quasi quasi che amo la signora pensando che è Dora no? alle volte vi trovo a parte quello che habita nel Salerno chiaramente ma vi trovo sempre che vi trovo in mezzo alla strada perché sempre sempre con me no? noi tutti siamo sempre insieme qua non è non è una cosa solo nostra no? sono contenta di poter partecipare di poter dire qualcosa io mi sento ogni tanto come ho detto già una 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 che c'è un cofre pieno di di cosa di conoscere tanta cosa ma ma non dico a nessuno tendo solo per me e quando ho opportunità di poter dirvi di poter raccontare di poter a modo mio diciamo così non tanto accademico come dovrebbe essere sinceramente queste esplicazioni qua una persona che è dentro la materia uffa madonna mia sarebbe uscirebbe delle cose bellissime ma io non ho questa preparazione accademica di questo di fisica di chimica di biologia dico quello che ho studiato che ho visto e che che leggo e che riesco a fare collegamento tra i vari i vari libri no ma è è così funziona così io avete qualcosa vuoi dire qualcosa Dora voglio solo rispondere a Luca brevemente che secondo noi secondo me quello che lui ha detto si rispecchia nel fatto che noi abbiamo un'altra visione di quello che è a rapporto con i nostri simili fondamentalmente basato sull'amore e se faccio un esempio molto breve due persone innamorate le vedi che hanno una faccia diversa lo vedi che sono innamorate e noi siamo innamorate degli spiriti di noi stessi del nostro gruppo delle persone che ci stanno a fianco e siamo aperte a queste persone cioè siamo aperte con amore no quindi penso che sia un po' questo questa consapevolezza di di essere un tutt'uno e di di offrirsi agli altri di essere ben predisposti non siamo ingrugniti cioè avremmo dei motivi forse per esserlo però nonostante tutto riusciamo a guardare gli altri con amore con compassione con empatia e forse perché tutti noi abbiamo un vissuto un trascorso e una consapevolezza che non finisce qua no e noi abbiamo questa perciò è interessante no ma abbiamo studiato fisica abbiamo cercato di capire un po' la fisica per parlare del mondo spirituale quando studiare lo spiritismo c'è qualcosa di spaventoso non c'è niente è più scienza che roba religiosa diciamo così perché è la realtà è la comprensione di quello che ci sta attorno non c'è divisione tra una cosa tra scienza e spiritualità non c'è divisione non c'è divisione tra religione spirito e scienza non c'è perché tutto fa parte di un tutto ma la cosa è poter leggere e poter portare a voi queste informazioni per me è importantissimo perché possiamo leggere attraverso la scienza o mondo spirituale è formidabile io penso che è una cosa incredibile veramente incredibile io vi mando tutti i testi voglio finire con una preghiera quella preghiera che abbiamo letto la settimana scorsa della della guida di di peracus della lezione 225 che è quello che rappresenta quello che siamo qua e che e che facciamo qua con noi che noi è quello che siamo qua oggi la preghiera di conclusione della lezione 225 di Eva peracus l'amore universale è altamente concentrato qui in questi istanti ragazzi durante questi nostri incontri in modo che voi non riceviate solo parola per quanto il contenuto di questa lezione è importante comprendere come materiale su cui lavorare non è una cosa che voi prendete adesso e poi no è da lavorare da studiare e si deve essere accompagnato dall'energia concentrata dell'amore che avvolge e penetra tutti i presenti qui tutti 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 quelli di voi che non ottundano se stessi che non bloccano se stessi sono consapevoli di questo sentono questa energia e ne vengono arricchiti vedi Luca può sentire questa energia e ne vengono arricchiti siamo arricchiti da questa energia di ognuno di noi qua perciò vi dico aprite i vostri occhi interiori tutte le vostre facoltà di intuizione in modo da assorbire questa forza che qui così che ciò che la vostra mente apprende coscientemente possa diventare una vibrante realtà e verità non una semplice separata comprensione intellettuale ma una vivente vibrante verità vi muovete vivete esisteste in questo amore e in questa verità sempre ma la giamore parte del tempo non ne siete consapevoli tutto ciò che dovete imparare imparare è sapere è essere consapevoli questo è tutto che siate tutti vogliamo che siate benedetti amici cari ok è bellissima questa questa è una è una preghiera e allo stesso tempo è un monito è una un consiglio è una è un ricordare quello che siamo grazie grazie a Luca grazie a tutti voi grazie a Luca sei stato senza di te non so che faccio grazie è sempre bello poter vedervi tutti ok ciao Andrea tu sei stato molto ma c'è molto da imparare io vi mando attraverso le chat le cose e il testo va bene un bacione ciao 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 chiudo